Grazie di essere venuti, io come sottintendente dell'Unione delle Arti e Paisaggio del Comune di Napoli insieme al Polo Museale e alla Università Nazionale per cui condividiamo l'utilizzo degli spazi di Palazzo Reale, innanzitutto do il benvenuto per questo evento che oggi comprende un interessantissimo seminario sul tema della grottesca, fino dalla grottesca alla decorazione pompeana e l'inaugurazione di una mostra alle 18 su cui poi torneremo questi eventi aggiungono a conclusione di un percorso avviato grazie al finanziamento della Regione Campania, POC 2014-2020, iniziato nel 2017, ringrazio la dottoressa Boldoni rappresentanza del Presidente della Regione e la dottoressa Rosanna Romano, direttore generale delle politiche culturali e del turismo della Regione Campania, dottoressa Murolo, che fa anche un intervento al convegno, finanziamento finalizzato all'attuale intervento di valorizzazione di Palazzo Reale, che hanno compreso il completamento del restauro delle cosiddette salette pompeiane al pian terreno della sede della sovrintendenza di Napoli e il loro utilizzo quale contenitore culturale, ovvero un museo di se stesse o spazio per l'organizzazione di eventi culturali. Nel caso specifico si è deciso di organizzare una mostra che attraverso i documenti bibliografici, cartografici e di archivio illustra il ruolo di Napoli, quale capitale durante il regno di Carlo del Borbone e l'acquisizione di una progressiva centralità, ruolo centrale della città e dei suoi settori nel patrimonio europeo, grazie alle opere urbanistiche, infrastrutturali, ma anche attraverso un programma di sviluppo industriale, come diremo oggi, oltre che di realizzazione di straordinari monumenti come Palazzo Reale, l'ampliamento di Palazzo Reale, l'alberto dei poveri, il teatro di San Carlo, voluto appunto da Carlo. Per questo motivo e per riportare, oltre anche naturalmente, le scoperte archeologiche di Ercolano e Pompei, nel 1738 e la loro profonda influenza sul gusto neoclassico nella cultura europea in genere. Per questo motivo e per riportare appunto le lancette all'età di Carlo, si è andati a organizzare questo seminario intorno al tema delle decorazioni influenzate dal mondo classico, a partire dalla grottesca, che intorno alla metà del 1700 riprende vigore e originalità proprio in seguito alla scoperta delle pitture morali di Ercolano e Pompei. La mostra, che inaugureremo nel 1818, occupa tre nuove sale, recuperate attraverso un attento e complesso intervento di restauro, che si aggiungono alle due sale Pompeiane già restaurate nel 2001, pertinenti al quartino privato di Ferdinando II e affrescate alla Pompeiana, ovvero all'Ercolanese, come si legge nei documenti d'archivio. Tra il 1838 e il 1842 ad opera di Salvatore Giussi e Gionnale Maldarelli. Un ulteriore esempio che si aggiunge a quelli già celebi della sala della toletta, per esempio, o altri presenti in importanti dimore napoletane, del gusto dell'antico anche a Palazzo Reale, con esiti già più maturi rispetto ai precedenti settecenteschi, proprio in conseguenza delle scoperte nei siti vesuviani. Mi pare doveroso a questo punto ringraziare Luciano Carella, che vedo e che saluto, a cui nel merito di avere fortemente voluto e sostenuto questo progetto, soprattutto con la volontà di sottrarre ad usi non consoni, ovvero quale archivio del deposito della sovrintendenza, spazi prestigiosi e dell'alevato valore culturale e restituirli alla funzione pubblica, un progetto che condivido assolutamente in toto. Credo che l'evento sia particolarmente importante, o che interessante, perché deriva da una sinergia tra enti e istituzioni culturali, la cui collaborazione concorre a valorizzare non solo il patrimonio storico architettonico, rendendo fruibili nuovi spazi a Palazzo Reale, ma anche lo straordinario protrimonio documentale e archivistico conservato in diversi istituti culturali della città. Per cui il mio ringraziamento va oltre alla regione, come sono già fatto, e al polo museale con cui abbiamo condiviso tutto l'intero percorso, alla Biblioteca Nazionale di Napoli, che abbiamo voluto fortemente presente in collaborazione, ringrazio Francesco Mercurio, l'archivio di Stato di Napoli, la Società Napoletana di Stora Patria e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che ci hanno fornito importantissimi documenti che vedete in mostra. Luciano Garella e Paolo Viscili Migliorini hanno curato la progettazione e la direzione dei lavori di restauro e insieme a Massimo Visore il progetto scientifico dell'allestimento della mostra. Volevo ringraziare in particolare il personale della sovrintendenza, Raffaella Bosso e Rosa Romano, senza alcun impegno forse non sarebbe stato possibile raggiungere il risultato finale, e Glossa, in particolare Bruno Fangimani e Carlotta Fiorentino, che hanno realizzato l'allestimento e organizzato l'evento di stamattina. Vi lascio al convegno e spero di grande interesse, ovviamente ringrazio tutti i relatori che hanno accettato il nostro invito e seguiremo i lavori con molto interesse, vi parisco. Grazie. Io sono in questa fase in sostituzione del direttore colombinale Ponente che è dovuto rimanere a Roma per improrogabili impegni di stelo. Ringrazio tutti voi di essere venuti, di aver partecipato a questo convegno, a questa giornata di studi fondamentalmente e all'organizzazione di questa mostra. Mi assorgo completamente ai ringraziamenti e ai saluti del sovrintendente Lallocca. C'è un aspetto che forse vorrei un attimo sottolineare, è che è un aspetto di sinergia. Il Palazzo Reale di Napoli è un ricco complesso. Il suo aspetto caratteristico è quello di avere all'interno di tutto, c'è l'interno di San Carlo, c'è una importantissima biblioteca nazionale che ho tenuto ospita anche i fondi propri del Palazzo Reale, c'è la Palatina, quindi diciamo del momento della residenza Reale. Ci sono due sovrintendenze e c'è ovviamente il Polo che è il titolare proprietario del Palazzo. Bene, ci sono due maniere di approcciare questo rapporto complesso. Noi preferiamo come Polo Museale la sinergia, la collaborazione e la corsa a produrre sempre migliori iniziative ed è proprio questa cosa che porta in questo momento il Palazzo Reale di Napoli ad avere ben cinque importantissime mostre in contemporanea. Per tutti i generi, dalle famiglie, la mosca Bud Spencer ai palati raffinatissimi, la mosca bellissima che è organizzata la biblioteca nazionale a secondo piano, quasi inaccessibile ma veramente straordinaria e rarissima, a contemporanea del Palazzo Reale di Agadava, alla mosca sulla giustizia, alla mosca di dipinti sui centesi molto bella e adesso si chiude questo ciclo con la straordinaria mostra voluta dalla sovrintendenza per i beni architettori di Napoli che vedremo il pomeriggio e appunto riguarda Garre e Borbone. Grazie anche alla collaborazione. Molte di queste cose sono fatte in collaborazione con Skalek, la mostra della giustizia, o in collaborazione con la regione. Perché il Palazzo Reale è questo, è la sede di tutta offerta culturale che ha voglia di prodursi in maniera, come posso dire, aperta, democratica, senza concorrenze, senza famiglismi. E questa è la strategia del Polo Museale per il... una strategia di condivisione per il Palazzo Reale. E credo che questo Natale, non a caso al Natale, che ci vogliamo tutti bene, dimostra la capacità di convivere di tutti i soggetti che sono presenti. Ecco, questa è l'unica cosa che volevo sottolineare. Non è sempre stato così, lo è stato però già da molto tempo e già nel momento in cui abbiamo immaginato questa mostra con l'architetto Garella, questo momento della grande condivisione del Palazzo era già avviata, vuol dire, è un pezzo di questo motore, questa mostra sin da quando l'abbiamo immaginata con Garella, con cui poi abbiamo fatto anche e seguito una quantità di lavori importantissimi di restauro nel Palazzo in piena armonia. Bene, e con questo augurio di poter continuare anche adesso che diventa museo autonomo e questo considerate un grande successo dello staff che da anni sta lavorando per la centralità culturale in città di questo palazzo. Credo che questo sia l'augurio per il futuro. Grazie mille. Buongiorno a voi tutti. Abbiamo accolto con interesse, anzi con estrema disponibilità, l'invito che ci è stato fatto di organizzare insieme in qualche modo questa mostra perché riprendendo le parole di Paolo siamo convinti, e questo magari per i non addetti ai lavori, magari per i non ministeriali, potrà sembrare strano, ma diciamo che diverse volte i diversi organismi, gli istituti dell'Università non dialogano tra di loro, per tante ragioni, tutte e altre diverse specificità che noi abbiamo. L'idea di lavorare in modo sinergico su Palazzo Reale, noi che ci chiamiamo e ci lavoriamo, sembrava l'uomo di Colombo, è stato in qualche modo l'uomo di Colombo che ci ha consentito e ci consente di realizzare e valorizzare nel modo migliore possibile questa struttura complessa, ma molto simbolo e significativa, non solo per Rappo, ma per la sua proiezione storica all'interno del Mezzogiorno, all'interno dell'Europa, all'interno del Mediterraneo. Come voi sapete la biblioteca qui ci sta da quasi un secolo e ha portato con sé una parte, un nucleo fondante della nostra biblioteca, è proprio il Fondo Farnese, il Fondo di Garro III, portò con sé indotto. E intorno a questo fondo si è costruito un progetto progressivo di biblioteca tra 700 e 800, estremamente importante, significativo e anche fortemente simbolico, soprattutto dal punto di vista identitario. Quello che noi adesso non facciamo più, non fa più, e devo dire con grande sincerità, c'è molta attenzione all'aspetto effimero e immaginifico delle attività del nostro Ministero, Ministero, meno forse il lavoro, come dire, di bassa cucina, quello che ci sta dietro le quinte per fare funzionare la complessità dei nostri istituti. Nel nostro caso, nella biblioteca nazionale, perché non riguarda solo una cosa che riguarda, non vi è, devo dire con grande franchezza, una seria politica bibliotecaria nazionale. Quello che invece è in qualche modo, a partire da Garro III, in modo particolare dal suo successore e poi in modo scientificamente organizzato dai francesi, il significato e il ruolo della biblioteca nazionale è quello che deve essere alla raccolta dell'identità, degli elementi paradigmatici della cultura di un popolo, di un territorio. E non a caso la biblioteca nazionale di Napoli raccoglie il meglio della produzione, non solo editoriale, ma anche manoscritta, della produzione che è stata realizzata nel corso di un millennio all'interno del nostro territorio di riferimento. che è il mezzogiorno, il regno di Napoli. Questa politica di individuazione di punti di riferimento culturali fondanti è quello che poi ci consente di fornire i nostri materiali per l'organizzazione, per quanto ci riguarda, per la bella riuscita di questa mostra. Oggi diciamo la disattenzione rispetto alle biblioteche in termini più generali e non solo quelle statali. La disattenzione con delle biblioteche, permettetemi, io dovunque mi capita l'opportunità, lo dico come un campanello d'allarme. Noi che siamo molto attenti a raccogliere e a preservare l'eredità culturale del passato per tramandarla, per portarla alle future generazioni, in realtà non stiamo raccogliendo il presente per mandarlo nel futuro. Ci sarà, proprio perché non c'è l'attenzione sulla raccolta dei materiali, ci sarà un buco di diversi decenni della produzione culturale del nostro territorio e soprattutto immaginando tutta quella produzione dell'era digitale, soprattutto, vi riferisco ai siti di internet, che sono estremamente volatili e nessuno raccoglie, nessuno conserva, nessuno preserva per le future generazioni. Sono molto contento di essere qui, voglio ringraziare il nuovo sottolineamento di Gira Rocca, ma permettetemi davvero con grande affetto un pensiero all'architetto Garella, con cui abbiamo costruito, è stato il primo, con cui abbiamo cominciato a costruire un rapporto sinergico molto forte, di cui questo palazzo ne aveva bisogno. I risultati, quelli che ci diceva prima Paolo, il fatto che il Palazzo Reale diventa un istituto autonomo, in modo particolare, il museo del Palazzo Reale, è un risultato, permettetemi che rivendico anche io, come direttore della biblioteca, perché abbiamo costruito tutto affinché potesse andare in questo senso. E un ultimo pensiero, ma non è dovuto, e sono profondamente convinto, è alla Regione Campania, che in questi ultimi anni ha mostrato una particolare sensibilità per gli istituti culturali del Ministero, cosa che non è assolutamente scontata, perché la Regione ha fonti, sì, certamente di intervento nei beni culturali, ma nessuno avrebbe potuto essere così convinto che avrebbe investito e conquistare l'esterno. E qualche risultato lo vedremo, magari, sicuramente nel futuro, per i lavori che stiamo facendo. Perdonatemi questa lunga e poco formale saluto, ma l'evento è importante e buono. Sono molto contenta e anche emozionata di rappresentare la Regione Campania in questo convegno. I motivi sono vari. Intanto voglio ringraziare il Dottor Mercurio per le parole che ha avuto nei confronti della Regione e per aver sottolineato questo segnale che sta sempre più emergendo di un'attenzione particolare verso la cultura. Del resto, voglio dire, i parametri, per esempio, del Sole 24 Ore, che danno Napoli come 83esima città del complesso della viabilità, la danno al 32esimo posto per la cultura. Ed è una cosa di cui dobbiamo tener conto. Stiamo crescendo, saremo dettagli, ma che ci importa? L'importante è che abbiamo questa spinta di crescita e di sviluppo e soprattutto per la cultura, perché è dalla cultura in poi che si costruisce. Senza cultura non si costruisce nulla. Ritornando a questo convegno, mi piace ricordare una frase di Anna Imponente, del direttore del Polo Museale, nel primo convegno che abbiamo fatto insieme. Lei ha detto che sembrava che improvvisamente insieme alla sinergia con la cultura e con la Regione, l'orologio di Palazzo Reale, che non funzionava da anni, si è messo a funzionare da solo. Trovo questa affermazione molto coinvolgente, è molto emozionante per noi della Regione, perché veramente vogliamo e vogliamo contribuire e ci piace pensare che Palazzo Reale sia la sede di tutti, quindi anche nostra, è la sede della città, è la sede dei cittadini, è la sede della cultura e in questo devo dire che il direttore Macilli fa operazioni di grande apertura e di grande disponibilità. Ma adesso parliamo un attimo di Carlo, Carlo si sono versati i fiumi del giostro su di lui, è stato un sovrano illuminato, non è stato, è stato un sovrano che in qualche modo accoglieva le stanze, diciamo così, popolari della sinistra, eccetera, oppure è stato un sovrano che ha utilizzato una strategia, la propria strategia divulgativa come propaganda politica per se stessi, non ha importanza. Il problema secondo me oggi a Palazzo Reale, per quello che andremo a vedere nella mostra, oggi è importante capire che Carlo ha lasciato un contributo, un segno ancora tangibile nella città, enorme, enorme, e non parlo soltanto dei palazzi monumentali, delle mille cose, l'ala del Palazzo Reale, l'albergo dei poveri, il piazza Dante, allora piazza Mercatello e mille altre cose, non è soltanto quello, è soprattutto la mentalità, la voglia di passare da una manifestazione effimera della cultura a una manifestazione più concreta, più reale e più direi monumentale, cioè tutti questi segni sono segni della sua competenza, della sua bravura, anche se gli storici se l'hanno promandato come un sovrano che andava a andare a cavallo, andare a caccia e non aveva gran voglia di studiare, ma aveva gran voglia di governare, di governare bene, questo l'ha fatto, e oggi questa attenzione nell'occasione del trecentenario della sua nascita è un'attenzione dovuta ed è un'attenzione che purtroppo non tutti seguono e conoscono, perché Carlo rappresenta una svolta per questa città e per questa regione, pensiamo alla regia di Casetta, Potici eccetera, rappresenta l'inizio delle idee luministiche, dell'affermazione pacifica delle idee luministiche e tutto questo fa di noi il sovrano che ha segnato maggiormente il destino di questa regione, questo convegno sulle lottesche è un convegno di estremo interesse ovviamente e la collaborazione di tutti ne dà il segnale, sono molto contenta di che questa cosa, che questo convegno abbia richiamato tanti studiosi di fama internazionale, perché è un convegno che merita e il Palazzo reale soprattutto merita di diventare sempre di più la nostra casa, modestamente, stai per lì? Grazie Ancora da aggiungere agli interventi che mi hanno preceduto Inanzitutto, diciamo, la giornata di oggi è la dimostrazione viva, concreta e reale di quando la collaborazione tra istituzioni funziona, i risultati sono tangibili e sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo con il piano strategico della cultura triennale avviato un sistema di sostegno agli enti pubblici e la collaborazione con le sovrintendenze e con le realtà museali che da tempo, come si diceva, mancava, ma mancava in una operazione sistematica, così come abbiamo voluto immaginarla all'interno di un piano strategico. Ovviamente però le cose si muovono sulle gambe delle persone di buona volontà e altrimenti non si muovono. Quindi noi avremmo potuto determinare anche importanti finanziamenti, ma se non c'erano le persone che sono a questo tavolo, ma non solo, e devo dire fondamentalmente un grazie a Luciano Garella che è qui e che saluto con stima e affetto perché questo nuovo corso che è stato inaugurato è nato anche con lui e quindi dietro una visione, dietro un programma, dietro un progetto, dietro appunto una competenza e una professionalità che è stata messa a disposizione del territorio. E saluto, ovviamente ringrazio il nuovo sovrintendente Larocca che ha, come dire, anche con questo progetto ha saputo vedere oltre e quindi ha sposato la visione di una collaborazione e di una interazione quindi sistematica. L'obiettivo fondamentale che ci siamo posti finanziando progetti di questo tipo che poi parliamo di progetti di piccole entità che però sono fortemente disseminati sul territorio regionale e che quindi lasciano tracce tangibili di quelle che sono le attività, le storie, gli investimenti e mettono in luce dettagli così come è riuscito a fare questo progetto, ma soprattutto mette in rete competenze e istituzioni così come è rappresentato su questo tavolo che non è, sì, assolutamente non è scontato. Siamo, come dire, per tanto tempo abbiamo lavorato in maniera episodica e, come dire, quasi a spot su iniziative progettuali e invece adesso finalmente stiamo riuscendo a lavorare con una visione prospettica questo che cosa consente? Consente ovviamente di recuperare spazi, luoghi, progetti e storie che fino ad ora erano, come dire, un po' dimenticate e soprattutto risocializzarne con il territorio. Questa risocializzazione per noi significa anche, soprattutto, riqualificare la reputazione culturale della nostra regione, riqualificare e riprendere la reputazione culturale della nostra regione perché è su questa reputazione che si gioca il futuro dello sviluppo e del territorio, dell'occupazione che può venire fuori dalla nostra capacità di rendere produttivo tutto il mondo culturale che si sta, come dire, sta crescendo sempre di più, lo dicono i dati, non lo diciamo noi soltanto e quindi questo nuovo motore di sviluppo che può essere la cultura diventa per noi, come dire, una strada maestra, lo ha detto il Presidente De Luca in diversi momenti, in diversi incontri e noi, come dire, stiamo cercando di sostenere a tutti i livelli questo tipo di visione. Il progetto di oggi, quindi, ne è la chiara dimostrazione e noi siamo qui a testimoniare che manterremo questa nostra collaborazione a tutti i livelli. Grazie. Benissimo, grazie a tutti. Adesso incominciamo i lavori del convegno. Siamo la professoressa Ciossi a moderare la sessione Mantutin. Grazie a tutti. Grazie a tutti.